una ricetta in meno di un minuto bella cuciniamo in sera d'andrea pasta con le sarde a proposito io non amo i bucatini quindi tutti gli amanti dei bucatini scienze di data di sera su un vi piace non rompete le scatole fate plip e i tv in amuri chef per tutti gli altri invece amolini in cucina un bello mazzone di finocchietto sebatico lavato ne tiriamo fuori soltanto le cimette che andiamo a lessare in acqua salata dopodiché la tagliamo piccolo piccolo e mettiamo da parte prendiamo le nostre sarde gli scippiamo prima la testa poi tutte le interiore tutte le lische insomma belle pulite pulite e le sciacquiamo in acqua e sale in una padella un po' di olio di acciuga un po' di olio evo della cipolla uva passa e pinoli e poi un'acciughina mi raccomando l'uvetta nera di corinto non la sultanina inseriamo il fracchietto selvatico lo zafferano allungato con del bruto vegetale le sarde mettiamo da parte in una padella bollente con un po' di olio andiamo a tostare la mollica di pane fresco nell'acqua che abbiamo messo da parte dove abbiamo cotto i fracchietti cucineremo gli spaghetti spadelliamo e impiattiamo mettendoci sopra la mollica atturrata beddamage